Ben ritrovati sul mio canale, ebbene continua la scalata al master, al gold, al silver, continua la scalata al silver gold Questa partita ragazzi, mamma mia, super staked, 18 squadre ad un certo punto, eravamo tipo chiusura terzanello, 18 squadre Ad un certo punto, perché c'è un bicchiere sospeso in aria? Via Ad un certo punto ho dubitato fossimo in lobby pc, bensì in lobby console Bene sì, perché queste ranked, questa edizione chiamiamola di ranked sul mio canale della season 19, le stiamo giocando tutte su pc, in lobby pc Fondamentalmente devo dire, le differenze principali che ho notato, sono che sostanzialmente la gente non gioca a caso La sensazione che mi davano ultimamente le ranked su console, è che purtroppo si torna sempre lì Essendo un po' troppo sicuri di quegli aggeggini lì, di quei famosi aggeggini lì, la gente non gliene fregasse un c***o Giocasse a caso, tirasse dritta come dei tori, perché fondamentalmente lasciava il pad sulla scrivania, stava lì così e giocava in automatico Tutto quanto, di conseguenza era tutto un giocare a caso, grifarsi Mentre qui su pc devo dire, la sensazione è che è più quella che la gente gioca, con un minimo di senso logico Di conseguenza, anche se sei un giocatore che meccanicamente magari non se la cava, come noi in questo caso Visto che erano due mesi che non giocavamo ad Apex, quindi le mani funzionavano, erano tipo così, giocavo con le mani così Però, giocando con un minimo di senso logico, comunque una bella top te la prendi e qualche punto lo fai Fondamentalmente è questa la differenza principale che ho notato tra lobby pc e lobby console Poi per quanto riguarda le ranked, me l'avete chiesto in tanti, soprattutto in live Cosa ne penso di queste ranked? E io se vi devo dire la mia, principalmente penso a due fattori Fattore numero uno, il sistema di punteggio, secondo me è estremamente sbagliato È estremamente lungo salire, quindi devi giocare veramente tanto E il fatto che sia lungo però non è sinonimo di difficoltà Io ad oggi se continuo a giocare 4 ore al giorno, entro fine season, il master lo faccio uguale Perché comunque le lobby che mi sto beccando già a Ruki sarebbero praticamente, si può dire, le stesse lobby che beccherò quando arriverò a Diamante Perché è l'MMR quello là e non è che sale o si abbassa o scende, è sempre quello è l'MMR Di conseguenza ho quelle lobby lì e trovo in sostanza che sia fin troppo lungo salire Poi per quanto riguarda il livello di gameplay vero e proprio Devo dire che forse quella che è stata la mia esperienza in queste 100 partite Che probabilmente, probabilmente mi sbaglierò Però in queste 100 partite che ho giocato effettivamente Sembra che abbiano un po' trovato la quadra Nel senso che le partite sono stacked Ma non troppo stacked Quindi se te la giochi con un minimo di testa Comunque ce la fai, non è un LGS proprio Tante squadre, non è neanche la clown fiesta che c'era season fa Mamma mia che è sto microfono Quindi mi sembra che abbiano più o meno trovato la quadra Anche se va un po' a periodi Perché ci sono giorni in cui comunque in secondo anello ci stanno 4 squadre Mentre ci sono altri giorni, non si sa perché In cui ci sono 19 squadre in terza safe Però comunque devo dire Per ora le partite mi hanno divertito Mi sono divertito E ripeto per queste poche partite che ho giocato Però ritengo che vada a fatto sicuramente del lavoro Nella prossima stagione per quanto riguarda le ranked Per quanto riguarda il sistema di punteggio In generale trovo comunque sbagliato L'MMR Io credo che se ci sono dei rank che diciamo valutano la bravura del player Dovrebbe rimanere quella L'unica valutazione È un discorso molto più ampio Magari ci farò un video Probabilmente le cose che ho detto possono essere fraintendibili Quindi ragazzi fatemi sapere cosa ne pensate voi qua sotto nei commenti Io vi lascio a questa partita Fate i bravi, fate i buoni Questa skin del Rampage a me piace molto Il Rampage lo so ma è troppo bello Bella anche la Conduit Bello questo Nemesis mi piace molto Dai è un passo di battaglia carino l'ho fatto Non devi giustificare la tua spesa dei soldi Non ti preoccupare A me solo queste due skin valgono Cioè alla fine due skin leggendari così le pagheresti tipo Quanto le pagheresti? Quanto costa una skin leggendari? 20 euro a testa? La compreresti mai? La skin del Rampage? No Singola? E allora? Però 10 euro sì Animata sì Ma sì Giusto perché te li ridà Signori di A Ovviamente io mi dissocio Stavo cercando di convincere i ragazzi Qua con uno Scaric Castle Raga Tancavamo tutto Scudi, ulti È vero Non ci rigava nessuno Seppure con una smoke Ce l'avevi? O l'avevi tirata prima per andare col ballon? Questo è il tuo campione No Quella che avevo l'ho tirata poi dopo Però tirando con la smoke Non vedevo più il coso Dato di distruggere Purtroppo siamo stati sfigati perché Quello spot andava bene Il problema è che c'eravamo un team sopra e un team sotto Cioè Unculati Dio vuole E uno davanti La ulti di quella E poi il bello è che tutti a noi sparavano Eh sì perché ci vedevano in difficoltà La bastarda Cercavano di acconirsi La pastara bastarda Abbiamo un team Preds season 3 sotto Preds season 3 Sicuramente trasbordato Io vedo solamente a Shir Master Non Preda Sì c'erano quei Preds season 3 Ma vabbè il Preds season 3 Eppure mia nonna Si è messa a giocare a quella season Dashboardava mia nonna E ha fatto il Preds Grande nonna Lo sapevi anche che mia nonna dashboardava Nooo Mi chiamava anziché dirmi come stai Mi diceva come si stacca il cavo Come stacca la connessione per non perdere punti Mi diceva mia nonna La nonna dei rini Esatto Sta per dire io Esatto Siamo un team nelle caverne lì Non chiamerò il team caverna Vado in mezzo Ti piace il mezzo Andrei in mezzo anch'io Vediamo chi ha più fortuna No lì in genere trovate almeno una viola La trovate sempre 40 ne ho provate Guarda qua Riky ha palesemente sbagliato posto Allora c'è quel team che se l'è andato lì Preciso preciso Un po' più spostato Per venire a fightarci Sì 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 no Quelli vogliono prendersi le armor Là dentro le caverne Ah la caverna matta Andiamo subito in caverna matta anche noi Potremmo farlo Non se l'aspettano secondo me Tanto abbiamo due viola e una blu raga Alla fine non è che Anche loro ce l'avranno Solo le armi il problema Ah i prowler Crist è vero Stanno fightando i ragnetti Io la farei sta cosa Secondo me non se l'aspettano Mi lancio una smoke di avartimento No No È proprio quello il punto Secondo me non se l'aspettano A few moments later Arrivo Mi sparano da topo da dietro Ah è l'altro team È l'altro team C'è un patti Ma è l'acqua Mi pucciano Craccata anche l'horizon Bello bello fatto Scendi scendi vecchio se riesci L'horizon one Provo a salirti io Provo a salire Sei solo oriki Io non posso salire Knock knock Grandi Ok che può essere che è arrivato il team Mi fullo slow Potete succhiarmi leggermente Il ciollone Ma quelli stanno sparando ancora Tutto ciò Ma che cazzo dici No 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 Stanno fight'am Stanno fight'am Ah no Non ci hanno visto Guarda questo Knock uno È flash quello Se ne vanno eh Fatto il GP Fermato Un team se ne è andato Un team se ne è andato Te l'ho detto Scritto Se gli sparate il drone Gli rivederà un colpo Mi hanno arrestato gli amici frizzi Che abbiamo avanzato prima Vuol dire che go Lo leggermente Sono quelli che prima Mi dovevano succhiare Quel posto lì Giusto La nerchia Il ciollone Sono proprio loro Go 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 Guarda senti Stanno correndo di là Fanno con me i tacchini Glug 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 Ragà io volo qua sopra E lo ammazzo questo Ve lo giuro Ti seguo L'ha proprio preso la lettera Sì sì van là No direi di no Ok Ne son full team via lì Prendiamo Prendiamo sto coso Faccio batteri occhio Questi laseravano Occhio la ulti di conduit Non so non me la sento Ho preso il top Oh crackato uno davanti 40 40 flash Un altro Il revenant Il revenant è flessissimo Crackato la bungalore Bella Avanzo Crackato un altro Vole hit Ne ho crackati due Uno si è fatto già back La bunga è ancora viola Prendo il top di sto coso Qua si crack il Revy Gli lancio le made 40 flash Sottorimè Sottorimè Bungalore Bella Knock Knock bang Crypto Oh altro team mi sa Crypto Spacca sto coso Dov'è non lo vedo Salgo a breve Salgo a breve Fatto 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 Sono già top 1 Bianca distrutta Horizon 1 Battery 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 Hanno la conduit Occhio Via entra da dentro Venite top top se riuscite Knock 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 Faccio batteri Mi devo far batteri anche io Che sono 1 Abbiamo knock Ok io c'ho anche l'L1 adesso Stanno provando a restare Quasi crackato un altro si stanno provando a rest Non è mia sta ultima Sticcata 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 Fatta 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 Ammazzata Stronzo Crackata Dai Da me Raga È fresh È fresh Stronzo Stronzo Grandi Altro team occhio Altro team Nooo stavo swappando Non preoccuparti ci sono io Prendo il top per coprirti Non so dove sono raga Magari uno solo eh Ok ok puoi restare Vieni 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 Ah sono due team Sono due team Ci sono qui io Non ho battery raga eh Mi fullo Tiro un medikit Ti do la bat intanto Vieni Poi vado a swappare Vieni vieni a swappare Vieni vieni a swappare Vieni vieni a swappare Faccio un medikit Mi riprendo il troppo tra un attimo Vecchio sono le LGS Mi sto correndo Bronzo 4 o in 2 Vieni Vieni Grazie Molto gentile Molto gentile Ten tira Abbiamo la safe 18 squadre Si Ma Ma siamo in lobby console Aless Come diciamo Ma abbiamo ammazzato una marea di gente Io Ma infatti è quello il problema Continuo È che rimane sempre uno e continua a sparfare Ma se torniamo no niente Brutto Ho 40 leggere e 100 energy raga Leggera te le lascio io Mi dai 2 energy per 2 leggere Qui ci sono munizioni leggere Mi lasciate 70 Le ho 0 di tutto Allora qua c'è il C'è il coso che vola Vediamo dove chiude Mi ha fatto un bel fight raga Mi è piaciuto Sì Questi qui a destra laserano leggermente C'è gente top Team con Longo La Blue Siamo finiti nella lobby sbagliata Dov'è? Tra poco becco Nisa tipo Ci sarà Nisa C'è tutta la community italiana A breve tiro un urlo Di quelli devastanti Evvisto il film wallstreet vecchio che fa D'oug D'oug Non fa u hu fa N podemos Nel dubbio Nel dubbio di tromba 17 squadre raga Incredibile è morto un solo Oh finalmente Oh arriva qualcuno raga Audio 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 Forse non sanno di noi Sento passi davanti a me Sì arrivano Stanno sparando Eccolo Splash Fatto Vecchio il tap strafe contro le massist Comformato Non è una buona idea Sarebbe da luttare C'è già gente lì Però sì Metto la zipline dentro Venite Aspetta Appena la smoke Si va Vediamo se è funzionata la smoke Dovrebbe andare Luttate quello se volete L'alluto Marta che cazzo di armi C'è gente qui Quindi dobbiamo coprirci le spalle Prima di guardare Mettiamoci Mettiamoci bene È proprio qua sopra raga Guardo io il back Arrivano da qua sì Ma io vi guardo questi finché posso Poi in caso vi chiamo Guarda quello che è caduto raga Occhio occhio Oddio C'è L'avevo moccato Uno l'avevo moccato Staccato uno di qua Eh c'è quello sopra che Con ste cazzo di armi Ma quella sopra lo posso togliere con la ultima Ora ho a spendere con i piedi Ok questi qua sono morti tutti Finito le cazzo di energy Si avvicinano raga eh Cento passi vicino Vanno a sinistra Vanno a sinistra con il coso mi sa Ok no ho finito tutte le energy ufficiale Eh ne ho 70 Anzi no devo caricare Sì sì li sento Forse ne trovo qui dentro Vada nelle praterie Sembra un cazzo di bradipolpo Trovate 12 Di bradipolpo Sono lì che guardo Occhio che arriveranno questi da dietro Arrivano questi da dietro Sono qua eh Versaglio laggiù Minchia allora sono in una posizione E' uno qua Vieni vieni qua da noi Arrivati qua Si li vedo Sono due sono due Conduit Bangalore Sono in due sono due Vogliono avanzare su di me Arrivo io Arrivo Vieni 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 Dovremmo tornare in casa se riusciamo Si Eh volevo vedere se c'era un po' di loot Ho preso la casa Ah io ho preso l'antirova possibile Si ne ho prese Ne ho, non è vero ne ho solo 120 Vabbè va bene Ho 360 leggere raga 4 batteri Se vi servono Dice gente è un bel macello Sa safe che disastro Avanzo leggermente Il top qui è ancora Un solo qui davanti Ah è un Gente Quasi crack Quasi crack Esatto Il wingo destro Crackato Dammi una mano Faccio batteri Faccio Phoenix anzi Sparavano da dietro Cominciate a guardare la safe Non sarebbe giocata Qua dentro batteri raga Ok che mi sa che ci vogliamo pushare Prendo casa Allora Ma perché ci vogliono pushare Oh bello il balone Anch'io Ne piazzo due per sicurezza Ma Ce l'ho anch'io su voi Venite 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 Eh top eh Andiamo top qua Va bene C'è gente lì eh Ok allora più in là Più in là Seguitemi Qua Bene se riesci Ok guardiamoci Niente occhio 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 questo è destra Eh una posizione di merda raga Non è malissimissimo Forse Io vi guardo qua Vi guardo il back Qui da me è meglio forse eh Qui da me è meglio raga Qui da me è meglio Eh aspetta che Eh ci sparavano anche da sotto Sì sì qui da me è tanta roba Se riuscite Uh da dietro Vedi 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 Eh mi knockano mi knockano Ma guarda dove è andata la smoke Mi copro io adesso Non mi fa far la battery Porca di quella m***a Perfetto Ok gli stanno sparando a questi Guarda destra Qua sotto li sto macinando Raga che il faccio di qua destra Ok questi ci avanzano E ne per occhio Ci avanzano questi Ci avanzano questi Ci avanzano questi Guardatemi Copro copro Ma qua ci buscano Vai ci sono L'ho ultata L'ho ultata Ok bella Li stanno fightando Ci ho distrutto l'horizon Ok dietro c'è un cover Bella bella Sto facendo medicit Madonna l'horizon dietro Asciutta con l'HP Mer ancora lì L'anello è vicino Guarda lì Ah no no Sotto eh Distrutta l'horizon Spingi spingi Tap strafe contro l'imassist Vinci a tap strafe contro l'imassist Zero Batteri 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 anch'io Parano gli altri Sì 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 Avete pesanti Ne ho zero Eh zero Sto finendo anche le energy Sembro Terence Ho sbagliato tutto Ho sbagliato tutto Ho sbagliato L'ho sbagliato l'ho sbagliato Più o meno Che fastidio sto fiosco Io ho un balloon però No no Ci vogliono avanzare Ulti di GB raga Ulti di GB Ulti di GB Guardali guardali Non è male eh Guarda GB Ma che fa Ok ok occhio Faccio batteri No vabbè Eh no Eh No 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 Perché mi Stavo venendo con lo scuro No è arrivata pure la 6 No ci pushano Knock Ah Ti annoi tutte le volte Team da sotto Ma ragazzi ho fatto tutto il game con sto cazzo di out Non riuscivo a far niente da lontano Cioè ci provavo ma Fattile per un cazzo Bel game Da l'hanno pure arrezzato Non ci voglio credere Ci sta Lei avevamo best position Peccato per il knock Eh ho provato a prendere anche io un knock Ma se avessi avuto un flatness Secondo me Almeno un knock La su quelli là me lo facevo Solo che Con l'avoc di bo C'ho un rinculo Che ti stava entrando il joystick in bocca Sì beh ci sta Bella partita 368 punti Cioè lì a noi ci interessava spingere quelli dall'altro lato Infatti lo stavano facendo Stavano andando dall'altro lato In questo modo si fightavano loro due E noi vinciamo la partita